Il Signore è veramente risorto. Ieri, giorno di festa, la festa per eccellenza, la Santa Pasqua, una Pasqua che venne allietata da un episodio straordinario. La Maddalena va al sepolcro dove era stato deposto e Gesù è sigillato, così come stabilita dalle norme della religione ebraica, e trova il sepolcro aperto e Gesù non c'è. E c'è un angelo a fianco che dice Cristo è risorto e è vivo, sta in mezzo a voi. E torna subito al Cenacolo ad avvisare Pietro. E Pietro e Giovanni corrono, prendono atto che il sepolcro è vuoto, ma le bende sono piegate per bene depositato a fianco. Quanto le autorità ebraiche diranno che i discepoli avevano trafugato o ladri avrebbero trafugato il corpo di Cristo, chi ruba non mette in ordine gli oggetti, non piega le bende e quindi è una delle prove che non è stato trafugato. Cristo è risorto, appare la sera della Pasqua, appare ai discepoli che rimangono increduli ed era logico come si fa a credere che un morto vive, risorge. Gesù dice ma sono io, toccatemi, toccatemi e fatemi mangiare. Possiamo immaginare come i discepoli guardano quel Gesù che sta mangiando. La felicità li sopprende, sono delle persone felici, il Signore è tornato in mezzo a loro. San Paolo dice se Cristo non è risorto, vana è la nostra predicazione e vana è la vostra fede. Cioè San Paolo prende subito la palla al balzo per dimostrare che la vericità della risurrezione di Cristo è fonte di certezza nella fede della Chiesa. La risurrezione è appunto il sigillo di Dio sulla vita e sulle opere di Gesù. La sua testimonianza di essere Messia e Dio è dunque vero, Dio divina, la sua dottrina, santa la sua vita, la sua passione morte di un valore di redenzione infinito. La risurrezione è il trionfo definitivo di Gesù e quindi la sua morte non fu una morte apparente, è la vittoria di Gesù sulla morte, la cui potenza è ormai spezzata. Perché come in Adamo tutti muoiono, così anche in Cristo tutti saranno vivificati, ma ciascuna nel suo ordine, premizia è Cristo, poi quelli che sono di Cristo nel giorno della sua parossia. La risurrezione e soprattutto i trionfi di Cristo su Satana per l'invidia del quale il peccato era entrato nel mondo e che dietro le quinte aveva mosso e diretta la contanna a morte di Gesù e quindi gli aveva mosso e diretto ogni sofferenza, ogni terribile riprovazione. Di qui oggi l'incontenibile giubile della Chiesa e il grido che non può mai finire. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Cristo è risorto. Ricordiamo come San Francesco intendeva celebrare la Pasqua una volta compenetrata di questo mistero. Non cessava di glorificare il Signore. Celebrate continuamente la Pasqua del Signore, cioè i passaggi da questo mondo al Padre, passando per il deserto del mondo in povertà di spirito e come pellegrini e forestieri.